Ciao, sono Tommaso Arrigoni del ristorante Innocenti Evasione di Milano. Per Top Italian Chef 2016 preparerò un uovo poché con crema di ragusano, riduzione di pomodoro, nocciole e caviale. Come prima cosa cuocio le uova in forno a vapore per 14 minuti a 72 gradi. Preparo la salsa al ragusano sciogliendo il formaggio con del latte. Preparo il concentrato di pomodoro facendo cuocere i pomodori tagliati a pezzetti per lungo tempo e poi li frullo. Sminuzzo le nocciole, le uova sono pronte, le puliamo ed eliminiamo l'albume. Tutti gli ingredienti sono pronti possiamo impiattare. Sul fondo del piatto metto due cucchiai di crema ragusano, guarnisco con le nocciole, aggiungo dei puntini di pomodoro concentrato, il tuorlo d'uovo, spolvero con farina di nocciole, aggiungo un cucchiaino di caviale e guarnisco con germogli di piselli.